Immenza Gioco di merragazzuoli Buonasera E' così Ci sono Perdonate sto insultando molesto Signori buonasera a tutti Benvenuto a Federico Saber Cosa speciale, cosa incredibile Marco Lanzetti benvenuto, Giuseppe Trotta benvenuto Marco Scuto Come stai brother Mirko Amore mio, Giuseppe Trotta Chi cazzo è che mi messaggia Fede mi sa che mi devi dare una mano tu oggi Perché sono da solo Perché Molesto mi ha abbandonato E' un testa di cazzo, è pelato Non lo so, fa cagare Quindi quando è Entra su Discord, Kill Salvo Raffaele, Lionel, Snoop Dogg, benvenuti Ragazzuoli, perdonatemi un attimo Aumento i volumi ragazzi, se no non si sente un cazzo Devo cambiare qua il volume Del gioco, che oggi l'ho smintiato Perfetto il volume del gioco fatto Proprio, 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 sa, sa Madonna ladra Le madonne si sentono, non so perché si sente più forte Allora, aspettate raga Vediamo un attimo di tempo Come state nel frattempo? Vi sono mancato raga Perché mi esplode Ci vuole il computer nuovo, basta Ci vuole il computer nuovo Ragazzuoli, vi lascio il link Paypal Orca puttana Viva i piedi di Federica Eh raga, con 50 euro di donazione Federica ha detto di mandare una foto dei piedi Ragazzi raga, la posterò io come storia Negli amici più stretti Su Sly Capobranco Allora, mettiamo il volume di Discord Aspetto Un attimo che aumento il volume di OBS Ok, dovrebbe essere tutto a posto Signori, dovrebbe essere tutto a posto No, figurati, vale Ero proprio, ma stavo startando Cioè non mi è beccato manco che ero in live Però ero proprio nel premere avvia Allora, quindi Fede Se ci sei puoi passare su Discord Non so perché mi sento così piano Ma che cazzo è? Ma perché mi sento così piano? Ma è molesto? Buongiorno Patrick, bello mio Hunter, benvenuto Ciao Ma si sente proprio piano Ma che cazzo è successo al microfono? Cioè mi sentite in realtà Però non è forte come al solito Perché di solito va un po' più in alto la cosa Davide, bello mio Benvenuto, come stai, brode? Va bene Mirko, no, ti ho salutato, bro Forse ti è partita la pubblicità Vabbè Quindi, molesto, ci sei, bro Allora, Fede Puoi entrare Aspetta, ci mettiamo su live Ah, Fede è già qui Ah, qua, su a te No, su live Giusto Perfetto C'è Artemio secondo grado Perché c'è Artemio secondo grado? Artemio! Non c'è più Non c'è più Artemio Allora, qua ci siamo Mamma mia, raga Io perdo sempre Non so più stremmare Basta Ciao Sly, non so se ti ricordi di me Sono un ex mod Minchia, sì Sì, bro, che mi ricordi Voglio dire che mi dispiace di averti lasciato solo ad un certo punto Ma per causa maggiore ho dovuto staccare il telefono No, bro, ma figurati Voglio recuperare il tempo perso Bro, a me fa piacere che sei ritornato Non ti fare mai problemi se uno non passa L'importante è che uno Poi nel tempo magari ci sta Rincontrarsi, risalutarsi Non ti preoccupare, bro Enrico Di Battista Fetuso e Cornuto Perdono Sud Cosa prezioso, come stai? Vai, ci siamo Federica è entrata Tu? Tu molesto? Ah, io sono già dentro Sto facendo shopping Ma non la sento Federica Fede Mi senti? Fede 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 Ma perché non mi senti? No, no, ti stavo prendendo in giro Collezione completata Ritorno terzetti Francesco Mulas Buonasera, bro Benvenuto Sono entrato nella chiamata per salutarti Guarda Guarda Ah, sei artemio Salvo Salvo lo presti Buon tonno Benvenuto Certo che ti saluto Antonio, benvenuto Sì, ma molesto Tu vuoi entrare in gioco Oppure ancora Ma sono già in gioco Ma nel senso Entra da me Sono pubblico Oddio di quel cane Che già partiamo a bestemmiare Porco Completato qualcosa Per niente Il gioco di merda Che cazzo Comunque Marco diceva Che voleva donare 50 euro Aha E io gli ho proposto Che chi dona 50 euro a Sly Io le do altri 50 Aspetta che molesto Chi dona 50 euro a Sly Altre 50 Dai molesto Dai che muovi con tanti Che qua sono 100 euro Un colpo Fammi vedere che skin si è preso Molesto Tu lo sai cosa devi fare Giusto? Ma lo ho tutto questo No, no, sai cosa devi fare Ora che hai preso Mega Godzilla Giusto? Sì ma ho anche Godzilla Ho anche Mega Kong Ho anche il pugno di Kong Inutile Cazzo hai preso Un lock tool Con tanto di wallhack ed aimbot Oppure hai mosso con tanti? No, ho preso tutte e quattro le skin Perfetto Allora Devi farmi vedere la skin di Mega Godzilla Adesso che io le testo da te Scelgo quale comprare Vedi che cosa serve molesto? Risparmio signori Qui ammalati di risparmio Vai startiamo raga nel frattempo Black Benvenuto Che bella tutta L'ho presa oggi dai cinesi Cioè dalla Gucci Perdonami Gucci originale Ho speso 500 euro 550 euro Ma siccome ero io E mi conoscono 650 Perché sanno Che danno male Posso permettermi varie cose Ha tutto firmato Mi ha contattato pure Chiara Ferragni Dice guardate la firmo io Troppo Scusa se ti interrompo Sly Dimmi Marco Basta Con queste barzellette Un po' così Cambia stile Se vuoi raccontare una barzelletta Grazie Ma non ti incazzare No mi sono incazzata Se mi sono incazzata Mi vedi Cioè mi senti Molesto Metà col collante Metà senso Ah dai Marco dai Sono due ore che racconta Solo queste barzellette Dai Dai Marco Dai gli ormoni Dai È una ragazza Trattiamola da ragazza Voglio dire Un po' di gentleman Dai se devi essere un gentiluomo Se vuoi conquistare una donna Vedi Bravo Marco Io non lo sono manco per il cazzo Non lo sono Eppure conquista Ogni tanto Ogni tanto Fede è arrabbiata Eh Se la pagare il periodo No No Non c'è Non c'è una volta Quindi raga Immaginate Se Federica è così Senza quel periodo Immaginate quel periodo Tipo l'esorcista Si già la testa a 180 Grazie Lì Oh metà verde Ti prendo un po' di amare Di no luz Fa caldo oggi eh Almeno da me Siamo i bicchierini Scusami Siamo i bicchierini Ovviamente Energy drink E caffè pure No raga L'amaro migliora La precisione Comunque È un energy drink Amaro Comunque Raga Non capita Sa Sa amaro Lì Mi hai stupito Come fai a sapere Il 23% di alcol Emiliano Tu conquisti sempre Grazie i capelli rossi Raga Comunque a breve A breve Vedrete uno slide Con i capelli Colore argento Signori Argento Capace Capace Che se mi rapinano Per strada Taglioni Capito Grazie Tori Guardo L'abbonamento A livello 3 Per i sei mesi Di noi Sei mesi Di tanto amore Troppo con il lavoro Non riesco a seguirti Tanto Figura Di bro Vai tranquillo Bro Crazy show Ma come stai Mi ci vedi bene Argentato Ma non fai la deco Spero Per quello ho detto no No Cioè no Sì Non lo so Perché prima o poi Sì No ma devo Aspetto un po' Prima Ritorno E che vivi I tuoi compagni Possono Aspetto un po' Per forza Che se faccio Una decorazione Ora Per davvero Come ammolesto Saremo i due Penati Ma in turchia Molesto mi ci porta In turchia Tengono insieme Prigione Dove stiamo andando E non lo so Sai com'è Flyron Prigione Ave 35 anni Che sentiamo A prigione Eh io sono Sulla torre Ormai troppo tardi Hai uno Sono morto bro Scappo bro Ti tiro un grappolo Di supporto Devo scappare Oh perché Mi ha abbandonato Ho paura Un amico di merda Deve aver paura Craccato Craccato Cd6 Sette Boom La mattina Ne ho fatti Dove ho detto L'hai fatto Ma che cazzo No c'è un altro Cioè C'è un altro C'è un altro C'è un altro Arrivato Ci stanno bussando Però a terra Uno Conferma Mi ha fatto Con una cecchina Capotentissima Gli altri Merda Mi ha perlato E lei come ve l'ho fingato Guarda come l'ho Craccato In faccia No si è buttato E scappato Madre C'è il nuovo L'altro Scende E qui C'è un altro Bastardo Comunque Lobby sudati Dai Cazzo No Ma davvero Ma insomma Non potevo ingoviare C'è un lato Le armi Occhio Molesto Che arriva Arriva C'è un sopra E lì E io sono giù Merda L'hai portato da me Oddio Sparo Mi sto piastrando Guarda che arriva pure Fede col pompa Mamma mia brutta fine Già comunque Sono dei draghi Molesto devi attivare la tua vpn Perché l'ago fast ultimamente Oh è qua Ma no Impossibile Molesto Ma questo Come cazzo è entrato Che cazzo è Ma ho usato anche la furia combatteva E' uno scala Ma infatti Boh Sono male che sono Sono già le loro armi Non vi preoccupate Ragazzi Salvero io la partita Sembra Questo era strano Questo era strano C'è gente Trovo solo cecchini In questa mappa Sono morto Sono morto Ragazzi Ditemi voi Io come ho visto A salvare con un jack Ma che problemi ha La mappa Ma che è che lo dice E' un altro Non è Sì la no L'anno E' nuvoloso La rincazione Ok Pensavo che era un problema mio Ragazzi Sento gente Che Sento gente Che si dà coltellate sopra Ragazzi Che gente da me Ragazzi Sto vivendo di ansia Mi serve una mano Ce l'ho sopra Di la sua stessa Un attimino Che scendo Dove 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 Ok Gli altri sono sopra Gli altri sono sopra Forse flyer Lo so No 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 Sopra Dove Si è buttato Fa terra un altro Dove Oddio No era qua Ma quanti cazzo So Ma quando su 120 quanta Abrisco Hanno tutte le loro armi Infatti Quelli di prima Allora sono Non ho chiaro Sono le Sono dei botte Soldato Un emico In arrivo In un russo Benvenuto Stefano Mariani Sono Filippo Falsi Un'altra Sulla Scala Craccato Craccato Sulle scale Un'arma Di merda Mi sento Non so Sono Cazzo Sono Mamma mia Fede Un attacco Mi ha fatto cagare Sai che sono Qua Cavalletta Di sto cazzo Arriva un altro Ma su Tu E chi Devo Matti Ma che arma Di merda Mi ha preso Ma mai Comunque è troppo forte La Renetti Raga Avevate ragione Io me la sono Buildata Pure Anche queste qui Sanno tutte le Dimentiche Sono dei sudati Ma questi dai Però hanno preso Il membro Onestamente Brava Federica Guardalo lì Guardalo là Ah è molesto E niente Sarà per la prossima Il complimento Gianni Bello mio come stai Patriolo Bello Allora io Prenderei Arrivo un flyer 2 flyer 3 flyer Volano Un è lì L'altro è morto L'altro è morto pure Mamma mia Ma bannatemi Guardalo lì Negli occhi Uno sceso Sotto di noi Ma queste avevano Un sacco di cose Non erano flyer Si stavano droppando Ma va Questi sono strani Ti ho già detto Dall'inizio Un uomo Mi sono cagato Mossa finale No no la voglio vedere C'è gente C'è gente Un pezzo di me Ho già visto Ho già visto Ho già visto Non si fanno Stai cose No 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 Io voglio vedere La mossa Fina L'hai fatto A terra Girati Vai 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 Che ti copro Guarda Alta te Vai lo puoi fare Lo puoi fare Guarda Vabbè così si gira verso di me No vabbè No vabbè Bellissima bro Sei un figlio di Tu che esorde Tu perché c'hai esorde Stardo Ecco lo dobbiamo vedere Sa che sono sotto Ciao Bella la mostra Fina di molesto Ragazzi avete visto Mamma mia Ho sguagliato E warning Sì Ottio bro C'era warning Oddio sopra Ma che cazzo Ma questa è la terra Terra Arli No raga da me Da me Vi prego E laggiù Si è andato Pollo Vengo da voi Vengo da voi Vengo da voi Sto ritornando Sto ritornando Partali Partali Allora uno lo fa Mi virano Allora intanto Nove bombe Così Bombardamento San Giovanni Panico Allora Ora ci andiamo Comunque qui Ragazzi Già Pronti Siamo Puoi andarci Eccoli Eccoli Sono dentro A terra 1 Dai a terra 2 Mamma mia Ma bannatemi Ma da bannare Fatto 1 Fatto 2 L'altro Brava Federica Lo sapevo Lo sapevo Vedi Per oggi Non ti dirò Di andare in cucina No Mi dissocio Adesso Ragazzi L'ha fatta bene Stavola Sopra Sopra Di noi Fune Prigione Che di te Faccio Vabbio Minchia Ragazzi Stanno pushando Mi sa Ti un e sopra Appena atterrato Vabbè Fune prigione Ragazzi Fune prigione Oli pingrossi Guarda Li ho visti Sono sulla collena Dei pingrossi Eh pure a prigione C'è gente Dove andare dall'altro Lato di prigione Mi capiglielo Un occupato Sono morto Ti hanno busciato Malissimo Masuki Madonna Che cosa ho fatto Ragazzi 18 Se era uno solo Me lo trombavo male Questa ha fatto Il giro Oh raga Mi mirano Da tutte le parti Oh Cazzo siete Tutto Peccato Raga dove te resiste Dove te resiste No bello ragazzi No 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 Vole di resistere No in chiusura Diversi Non ci giocate Di slide Eugenio 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 Io ho appena preso Il load out Come cazzo l'ho detto Guarda Il load out Bro la renetti Ti devi fare Ah mi hanno buttato E io avevo Copermi 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 Sfetta Arriva Arriva Mi sono buttato Ok No Pezzo di merda Quanti E' un pezzo di merda Che cazzo Mi deve essere educato Vabbè non li devi insultare Sono brave persone Ah mi prendono tutti i slide Sono c'è un bordello di gente Dove sta andando Oddio Arriva Un compagno è tornato in squadra Bene Ma niente Scendono a voi Eh si ricarica Un po' l'intestate Stai vengono a te Sì Sì Vengono a te No ma dai Angore e i currere Prima di battere sky capo bianco Dovete sudare 24 capice Dai che c'ho 12 kg Io pusherei quelli di prigione Prima che pushano Prima che loro pushino noi Ah Ricorda che quando ti puntano il cazzo Devi rispondere con un cazzo più grosso Bro Uno a terra sopra prigione Arrivano dei nemici Attenzione in alto Perché vedo le casse attraverso le pareti Da me è uno Ma dov'è Potete pingarli quelli a prigione Ok E' qua e qua e qua E' qua dietro E' qua dietro E' qua dietro Vediamo se lo vedo Madonna di quanto Ma mi sa che si butta questo qui Se ne vedi altri pingarli Lo vedo Arriva mi sa Cazzo io sono scopo Sumirato Che culo Fatto fatto Mi chiamo ha squagliato Parle Ma dove sei Dove sei Io sono a piano terra Ok Ok a sto punto raga E non siamo in sefi Dobbiamo tenerci casa verde Vediamo dove va la safe Minchia c'è gente sotto di te Fede sotto di te E' morto E' morto E' morto E' morto Ah andiamo vinto Oh grande La luce Oh e beh te rotti i coglioni Era l'ultimo bolo E' la volta che vado per entrare io Guardalo lì Guardalo là Si vince anche stasera Guardalo lì Eh Bella sta win raga Non lo sapevo Se no li facevamo la mossa finale Sì infatti Io sono triste Ogni volta vero raga Prima che entra warning Vinciamo sempre Adesso quando c'è warning Ci saranno le lobby di me Basta Adesso c'è fatto che cambia la mossa Tutti complimenti a Fede Grande Perché? Applausi Perché secondo te perché? Vai Fede 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 Perché c'è la fiducia Phil gamer Bello mio Quando farei le private Assisto Cecchino Sono bella domai Che non fullo le lobby Ragazzi No Oh le armi Le due armi che ho trovato a terra Erano Sarebbe un messo un problema Belle All'arenette E' proprio pena Fede sei la migliore E niente Ragazzi Basta Io tolgo la camera Vaffanculo E' di ormai Mi metto io on camera Rimane il tuo canale Dai Ma metto una tua foto Al posto della web A me basta Dai che oggi siamo Carri Quella di mega phone Vediamo mega phone Nel frattempo Signori Attenzione Colpo di scena No Dove c'è Warning Sì Sei in sab di gioco Stai pisciando Stai pisciando Si sentiva tutto Ma c'è il volume delle cuffie C'è il microfono delle cuffie Non mi dire Terribile Sì C'è raga abbiamo appena sentito La pisciazza di warning In diretta Non ti posso neanche mutare Devi mutarti tu No Pazzesco Ragazzi Vabbè ho finito Mi sto sciacquando le mani No vabbè Ragazzi Epico Epico Ma tu l'hai sentito Sì Anche bene Ah ecco Ecco Non ero l'unico Allora E non lo posso neanche mutare Ma pensavo che era il rumore Di qualcuno Di qualcuno Sai quando Non sto nemmeno cercando la partita Niente Vabbè hai cambiato tu la skin Bro Ma no Cambiato solo la mossa finale Ah ti piace Pro come skin Ma lo sai che forse ti vedevo Baggato bro Perché vedevi le spine blu Sì Mese che vi ero là Ho notato Non so perché Cioè Cioè vedevo proprio la skin di Godzilla Quello Cioè quello normale Quello normale Ragazzi Ma raga ora mi sentite Sì sì Ora ti sento Ma come facciate a sentirmi da là dentro Cioè le cuffie si Ma vada la ciotte di gioco Ciotte di gioco cretino Ma porco Epico Hai testato la tamarata Ti ho suggerito Sul cod Scorsa settimana WSP Aftermarket A Kimbo Ah no no Ancora no ma Adesso la La provo poi bro Scusami Poi mi Prossima partita WSP A da Kimbo Ma tu aspetta Aspetta Quale dici Quella che è già Secondaria Oppure la WSP Ah vero Se mi dici L'aftermarket Sì Non l'ho mai provato Bro Come WSP A da Kimbo Ho usato quella secondaria Cioè quella Pistola Va Siciliano Siciliano Che merda Raga C'è caffè Scusami Sono stoccato la carina Ma anche a voi Vi hanno sminchiato Gli FPS Sì Sì Faccio 90 FPS Stai venite a me 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 Guarda che ne hai uno Che ti sta venendo bro Se vuoi te lo stunno Te lo stunno bro No 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 E per farti vedere Cosa ho in mano Ah scusa Ma devo rifare Mi preoccupare Ma che problemi Guardano lì Snoop dopo Un quanto stile Oddio Oddio Ma che cazzo Di problemi hai Vedi che ti vedo Con la skin Quella lì Ma non è che ti Ma al pugno Non me lo vede Il pugno Sì sì No Però ti vedo Con la skin È azzurra A meno che Quando uccidi Diventi viola Può essere Niente ragazzi Registrazione Moderazione Ci vogliono I contanti Allora warning Quanto sei sudato Oggi da 1 a 10 Ma già sono partito Sudato per la figura Di merda Capito Sono pissato In live Ci sta Alla fine La gente Se lo aspetta Che andrà in bagno Magari qualcuno Neanche piaciuto Che ne sai Ragazzone Dai Chi è piaciuto Il sound Della pisciazza Di warning Era da clippare Fateci sapere Poi lo mettiamo Poi lo mettiamo Poi lo mettiamo Sul tiktok Mettiamo pure Sul tiktok E andrà in viral Sì esatto Bellissimo Io vado al mio posto Speciale Ma dove stiamo scendendo Raga Io vado Torre Poi per il gioco C'è gente da me Non c'è gente da me Ma non si trova più Il ceccino Ma raga Ma il tempo È alternabile Il tempo su Rebirth Prima era nuvoloso Ora no Infatti Oppure più si chiude la safe Più diventa così Può essere Dipende Se il mondo fa click Boom 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 Non ho ancora capito Però il clima cambia Oddio Sono morto Sotto 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 Come sotto Io sono c'è dall'altra parte Ma vi muovete Dai Sotto Ho smirato da nudissimo Erano dei bot Lo so Ho smirato tantissimo Già mette un pane Dalla pissata Dora in qua La pissata di warning Sarà la mia sveglia Bravo Felti Non si farono Tutte sul tetto Come non è Dove Tua madre Tua madre Se glielo chiedi È la regina È la regina Ma perché vai lì La regina Delle Oh c'è gente sul tetto Da me Da me Da me Prima c'era l'eclissi Ma sono spententi sul gioco E la slime Saluti Libro di Quello Di Warning Come cazzo L'hai citata Quella Mica ti ho visto Che ti sia Questa c'era un altro Dai mi hanno atterrato Sopra prigioni O sotto Mi sto torrentando Ce la faccio Dai Ma come cazzo Mi sparavano in due Che non ho armi Rai se solo Sono morto No sono morto Non ho armi Ragazzi E uno sempre me lo porto a casa Io prima di morire Ma come al termine No Siente sul boccione Mi hanno già fregato C'è guarda che armi Trovo Dove c'è l'hai B bro Sotto Sotto Qua Sotto Qui Taccato Minchia Non ho armi Ce l'aveva Due armi Armi Di mardo Bro Nel check In che due check-in Cazzo Devo fare Uno sceso A Corre Mamma mia C'è l'altro Mi sa che salgo Io perché Guarda Questa qui La gara Grazie Ancora Che è Atterrato Oddio Oddio No Scappa Bro Sono in due Che guardano Malissimo Ma che scappa Le affrontiamo No sta scendendo Oprite colpe Ma adesso me lo dite Resiste Ragami Ho ucciso In un modo assurdo A me uno Con la pistola Peccato Regano Eccato Ce la faremo Signori Non mollate Non mollate Abbiamo federica No fede dietro Oh non l'ho visto Non l'ho visto raga Non l'ho visto Proprio Dovevi fare un saltino però No mi son girata di fianco Per vedere la live Vaffanculo Ma non glielo neanche senti Perché ero in manicola E devi guardare la live Eh perché non li ho sentiti Raga Cioè si sentono i passi In teoria E' la teoria E' la teoria che ti fotte Mentre giravo Ho guardato la live Non l'ho visto Parca putta Ti mancava tutto ciò Simone Grande bro Comunque hai ragione E' arrivato Warning Basta Normale ragazzi Ogni volta Fatta la cazzo di win Prima che entro io Siete bastardi Ma fate due domande Il perché Vinciamo senza te Eh Vorrei giocare anch'io A Warzone Ma mi hanno levato tutto In che senso Pure la casa Ma la renetti Con il kit di conversione Sì è quella lì Uso Siciliano La renetti Anzi ora mi devo fare La WSP da Kimbo Raga Vediamo se ce la faccio In un attimo Uso quest'arma Che mi ha dato Che mi avete consigliato E vediamo se è forte Se è bestemmio Vi insulto Se non bestemmio Non vi insulto Raga la mia sedia Piano piano va scendendo Sempre di più Cioè ho i gomiti alti Per la tastiera Cazzo Perché Oggi raga Mi sono incazzato Durante una partita Ho dato un pugno Sulla tastiera Sono volate almeno 5 tasti Nooo Ti prego Minchia bro Non ce la facevo più Non sapevo dove dare il pugno Cioè puntavo la scrivania No? Però non avevo visto La tastiera troppo vicina E ho dato un pugno Infatti ora se scrivo Warning Mi scrive direttamente Fino Nooo Mi su Che poi lo dice a me Che mi manca un tasto Bastardo Controllate la caposudo Si vince stasera Ci proviamo Midnight Mi chiamiamo Una Ho già visto Vedi lo stesso nome Su Twitch Per caso Sei mai passato Sul Twitch Allora aspetta Mi devo togliere il cecchino Raga E mettere Mitraglietta WS Fishworm Usiamo la mia build Solo che mettiamo Il kit di conversione A da Kimbo Che equipaggiamo Questa da Kimbo Ma una domanda Io prima Nella parte In cui abbiamo vinto Ho rubato due armi A un tipo Che erano troppo belle Le posso vedere In qualche modo Eh no Però Se hai trovato Una mitraglietta Che sollieva Dovrebbe essere La Renetti Col kit di conversione Si la Renetti Ragazzi Devo rifarmi Le build Perché anche il cecchino Non mi va più bene Non so Perché Si è sbroccata No vabbè È rotta bro Già Già lo vedo Che è rotto Quest'arma qui È spasciatissima Ragazzi La Renetti No La WSP Swarm Da Kimbo E non Recoil Il coso Non si allarga Tanto 200 colpi Che ti fai Un team Da 32 Tipo Mamma mia Comunque sono Oppose Ah vero Bro Tu sei Dai ragione Ma me lo dimenticherò Altre volte Sapp Me lo dimenticherò WSP e spada Minca sei un folle Sud Però lo faccio E che devo sperare Nelle lobby Ragazzi Vediamo come va Questa In caso Lo ci ha mostrato A molesto Ma veramente Senza ricaricare Tra l'altro Film Ma è sereno caro Lo sei fatto Ragazzo La morte Sono dovuto scendere Bro ti pushano in 26 La? Eh ma devo starmene qua Oh vabbè Cazzo sei Bravo Io non capisco Io non trovo mai un'arma All'inizio Ma neanch'io Dai non c'è un'arma Prendila Luttate raga Luttate Luttate C'è gente Dai raga Ogni start che faccio A zero Stefano Saluti dalla Spagna Guardalo lì Stefano come stai Dai Ma basta Però trovo solo Check in Si è minuto Il cazzo Eh ora mi pushano Che cazzo faccio C'è raga Ma basta Non c'ho un'arma Io ho un pezzo Basta Cecchini Avete rotto i coglioni Dammi Basta Mi pushano No Vaffanculo Raga Chi va? Io non trovo armi Chi va? Perché io Io mi butto qua Sono morto C'ho gente Tipo ovunque Grappoli Madri Ora mentre salgo le scale Mi pushano Sicuro Minchia Oh ma sono assatanati Questi Arrivederla Attenzione C'è una squadra nemica Che cerca Mi ha paura bro Eh dai Eh già mi mira I rinforzi Sono in arrivo No Minchia sono la merda Porca puttana Madonna No raga Non so Do a chi andare Qua c'è il mondo Dove è? Uno lo fa Sono senza colpi Eh vabbè Qua c'è il mondo Dove? Lo lasciarà Quella che ti sei fatto Bro Allora Sono all'altra porta Alla mano Aspettami dei colpi Assalto Ok Ok sono sotto di noi Almeno due Tutti i compagni Sono nella torta Ok a terra uno Dove cazzo sei? Dov'è? È lì Straccato Riscendete qua Raga però Riuniamoci Mi avete abbandonato Qua basta Delle armi Io sono Muoio Qualcoglio Che ho mai abbandonato Arriva Che questa Rottiva L'arma Ce ne due Posso farmeli Credo in me Terra Un fogliettino ragazzi Iscritto a tutti Li shadow Viviamo Uno solo Di nuovo Oddio Raga Vaffanculo Sono di nuovo Qua in teoria Occhio sotto Ce la faccio No Sbagliate Vabbè Vado ad andare a prigione No sono qua Dai Sono qua 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 Vi aspetto allo Di raga E io arrivò Eh sì sì Madonna Devo prendere poi Quelle armi Il nemico Sorveglia l'area Operazione Però raga Io Minchia Faccio delle robe Fantascientifiche Ogni tanto Sorveglianza nemica In corso A riparo C'è un disturbatore Da qualche parte Ah Hai ragione C'è l'eclissi Guardalo lì Allora vado Verso il lodi Buono in questa casa In questa casa Arrivo Adò pensavo di averlo fatto Ho detto Minchia E' gente anche qua Raga Minchia abbiamo C'è ancora vicina Ma adesso bravo Gli danno Sai che uno scende Sul tetto Cioè su Vabbè vado Vado da voi Vado direttente Sulla finestra Centra Li sto sguottando Vabbè mi ha scogliato Questo Sono safe Oddio Quattro persone Su quella Si pushano Ma come è Si pushano Ah Da qua Da qua Minchia raga Mi pushano Pusciano Anche noi Eh pushano tutti Arrivo Vado in tende Qua Dove cazzo si chiama Occhio Occhio Sopra Sopra Arriva Non è a terra Arrivo Sto salendo le scale Niente 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 Sono in due In teoria Sono in quattro Tre Quattro No Porchia Puttana Uno confermato A terra No Questo è craccato È craccato È craccato Mi sto piostrando Ho confermato quello lì Eh niente niente Sono morto Malissimo Eh questo Bravo Erano due Merda Tengono puntato al lobby C'è un altro Capitano Io devo Raffaele di merda Hai rotto il cazzo Sono morto anch'io Che cazzo Eh uno ho fatto E uno mi ha Uno ho fatto Uno ho fatto Sono due Sono due Mi richiamo Ma è proprio Io già Già so Che questo Mi amico Faccia di Minchia Ma non così Tanto La dozza Apprendibile Secondo voi Eh ci sono loro Di là Eh non credo C'è un cazzo Oh ragazze Riesco a prendere Il loadout Io faccio una strage Ve lo dico Guarda ce ne vuole Sul tetto adesso Tra i No warning Warning Scusa sei tu Se ne avete dentro lì Scappa Però sto prendendo Due armi amiche Dietro pure Sì Eh Finchia Assurdo Nooo Chi l'ha visto Quello Quanti Uno sul tetto Dove sono morto Pure sulle case Pieno Anche qua Raga Anche qua Cazzo Bro Prova a camperare Che raggiungo Dove sei tu Ora Sono morto Eh Dai In chiara casa No Apri casa Andrea Ok Sì ma mi stanno pushando in 115 Non ho armi E non so dove cazzo andare C'è non ho No che non ho armi Non ho piastre Tu consiglia che lì sopra è persona Sta qui sopra Merda Devo prendermi le piastre Avete gente pure qui sopra Lancia Mi raggiungo lì dentro Non ho armi Vabbè c'è gente Vabbè c'è gente Vabbè c'è gente Ma che mi cazzo Ho caduto Morto Non sei tu Non sei tu C'abbiamo gente sul tetto Sì sul tetto Due me l'amato dai chi cazzo è che mi mira dalle finestre strani e mamma mia l'anico a pulsano in due una terra mi lascia andare c'è non si sentono i passi ma non più che altro sta cazzo di sirena ora doveva doveva suonare ho solo la siree io provo l'odio e spero che la sede si è andata dalle che sono ragione un problema pensa che la safe ragazzi chiude tutta contro il senso ho provato ad aprire minchia sparano ma dove cazzo era questo occhio è guarda questo che ma c'è qua in acqua in acqua come cazzo si fa come fanno morire questo era di papà panza enzo benvenuto brother vabbè saranno sul nave sicuro io non torno si può restare allo shock ma mi ha fatto cagare c'è gente c'è proprio ma veramente o poi ho stato un bro perché io non ho parola che questi sono ma non succe c'è no un rato vabbè eh ma non so dove andare allora vado a control center di prepotenza eh vedi se riesci a restare allo shock poi un resto il primo dai come cazzo da preso c'è gente occhio eh li sento ma forse sono sotto no 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 era uno a questo piano di qua ma dobbiamo ratteggiare grazie no no sono lì no occhio sono piazzate sopra ma do ma che cazzo non lo fa no no dai intanto io esco e a piccola pubblica eh puoi svegli uscire tutti no al posto raga per favore almeno una bestemmia inciatta a me secca stavolta stavolta la voglio tenere per me dimmi che ho sbloccato il co sì signori adesso ci divertiamo perché hai sbloccato il cecchino no ho sbloccato il punto del pass per sbloccarmi gli ultimi 100 dollaroni punti code per comprare la skin di king kong e di conseguenza fare quella mossa finale quello aspettavo che cazzo è king kong non mi dire che l'hanno tolto ah madonna mia eccolo qua 20 euro equipaggia equipaggia ti copro io rilasso ma già ce l'ho messo no c'è ancora c'è un blog dove cazzo è king kong e non lo vedo io king kong ma chi è king kong raga mi vorrebbe essere la skin sbagliata no 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 l'ho preso però lo sto a ridere se hai preso la skin ah ecco è lui è lui no pensavo che era una skin a parte invece era un operatore ok quello è morto no la mossa finale quella di king kong minchia come si chiama sarà questa si si kong spacca macella guardalo lì c'è kong spacca macella c'è kong spacca macella la evviva la figa ci sta bro sto entrando allora aspettiamo aspettiamo molesto ragazzi ti faccio vedere sta mossa finale che è tazzè ora ora vinghiar ragazzi voi lo sapete come sono io con le mosse finale ora a tutte le la faccio non ce n'è uno che si salva li faccio volare tutti ragazzi allora nel frattempo bro ti dirò la schi la l'arma la vsa gioco a entrare bro gioco a entrare bro si si or li metto almeno i 50 colpi anzi no 40 colpi perché secondo me 80 colpi comunque da kimbo basta allora da chi devo entrare da molesto ne ho solo troppo vabbè entro da time war perché non trovo molesto si ti ho mandato l'invito non riesco a trovare shadowy si ammocio allora il nostro king kong si però aspetta io se riesco voglio cambiare personaggio cioè voglio mettermi lui che mi piace con quella mossa finale mossa finale come si fa che menù di merda dov'è kong spacca mascella e visto che ho fatto la storia da hai vista la mia storia di loex benvenuto per lo mio come stai giuseppe zito e saluta potrebbe essere tante views metti la fa la mossa finale con king kong e metti questa canzone no no devo fare un video dove faccio questa mossa finale poi gli metto la musica quella lì è bellino anche la per la legge sta allora abbiamo una missione devo tirare a bio weapon un nemico da prigione devo mirare bio weapon minchia questo è l'obiettivo di vita dov'è che ci hai collegato bro dove ci hai portato in kazakhistan in kazakhistan ah è sempre peggio comunque allora no allora lago fa stragato non so che cazzo ha però ultimamente mi sa che non si collega bene perché infatti tipo scelgo africa e mi fa milano roma africa non so in che senso e qualsiasi zona prendo ne so india qualsiasi zona mi dice sempre poi milano roma c'è non lo so prima non lo faceva sta roba a meno che in india c'è milano pure roma magari si trovano in india magari ci hanno sempre mentito magari siamo in india e non in italia aspetta non lo sto trovando ora perciò vediamo andrea miranda benvenuto brother come stai ma tra l'altro ci vuole una skin bella a me metterla la skin rosa perché così mi sento tutta donna mi sento tutta federica qua rosa sapevo che lo dicevi ciao andrea cosa preferisci rosa fucsia un po' più violaceo io quello sabbie amaranto però è bello sto colore ragazzi anzi no io devo dimostrare che sudo ragazzi quindi andiamo di oro ma ce l'ho oro che cazzo stai dicendo ah no vero non ce l'ho le mitragliette oro non ho sudato abbastanza figurati simone bello mio grazie comunque per essere passato la tuta è top grande però è Gucci originale bro originale 650 euro perché ero io 700 ah non era 550 si no 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 750 perché ero io 800 ah ok scontata si no era 850 perché ero io 900 non c'è guarda con le pistole chiamo se adesso fanno più� guarda guarda no ah ma viene tutta la ficca no io devo fare tutte le mosse finale raga è bellissima ma perchè ho Snoop Dogg? no era lui forse no devo farne un'altra è bellissima ehi guardalo lì un animale è bellissimo ah hai provato quella di Mega Kong? eh bellissima raga sta mossa finale no è troppo bella ma da sdraiato dovremmo provare cosa fa dove dovrebbero farle più spesso e ste robe particolari vedi che tipo lo lancia in aria non ti preoccupare che attivi 99 dovrebbero fare tipo mosse finale dove distacca le braccia cose un po' più con fatality di Mortal Kombat magari fanno una collab con Mortal Kombat ma andiamo sempre prison io gli do le idee raga io vado sempre in torre io prison questa volta che non trovo mai stavolta scendo tipo verso qui che di solito un'arma c'è ora che l'ho detto un giangazzo guarda arrivano dei nemici e invece raga colpo di scena scende uno nostra finale bro vieni qua sta è a terra qui guarda bro via oh davanti a noi sono di no per mira di merda dai 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 no vabbè raga io non ce la faccio. Devo farlo a怎樣.... non hai visto la mia bella pure quella no raga troppo bello troppo bello buonanotte su un attiriamo uno te lo faccio vedere notte brode ma adesso prendiamo il coso dei xp che abbiamo i soldi di frillo d'altro mi stava ammazzando lo shop così a cazzo stazione di acquisto mobile pronta ci vogliono 15.000 parello eh si ma in teoria da un bordello di soldi sta roba no raga raga pushiamo qua a casa e la puoi studiare con me no c'è gente anche l'ultimi trecenti sappiamo dove sono gli altri una terra un altro tagliata sono morto quanti sono c'era due a vivi a terra no vabbè raga io stavo cerchionando 1 1 mi è atterrato davanti un altro sul tetto è entrato arrivo l'altro la parola finale l'altro mi sa che a torno ragazzo facciamolo d'altro siamo con i miliardari no da prigione raga sono safe però se coprite qua volte mi puscia no no non sta puxando non sta puxando non sta puxando non sta puxando no da dietro o chi è perché potrebbero pulsarsi male io ora il pulsolo abbiamo anche dietro cazzo del mio loadout godo vediamo ste armi ad akimose no Ma che cazzo è ma tutto sto bordello No Posso fare il lodi ragazzi No Siamo focati Gli altri sono sopra Una terra Altre qua Guarda che uno è qua e da qualche parte Mamma mia l'ho fatto a caso ragazzo Sto morendo Una terra qua Ma io adesso Copro le scale Oh Di mai nientate No Quindi facciamo il lobby No Perché farelo da Mi sa che forse è scesa gente a casa verde oppure leno Vabbè io non lo prendo raga tanto lo ce l'ho già Torre Abbiamo una carta di munizione Non ho armi raga per sparare quella attorno Mi sparano addosso Ve lo vedo Sei buttato sei buttato sei buttato A terra Verso da qua Eh mannaggia la but Ok si è confermato Mi sa Si 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 è confermato Esatto Loro sono i compagni Da me? Arrivo Si 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 da me qui 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 raga dove ce lo so più costato Merda No Sono morto Sono morto Sono morto Arrivano eh Guardate che ci stanno bussando in venti A casa Terra No da dietro ragazzo Vediamo dove sono gli altri Non lo vedo Non ci vedo Non ci vedo Io li sento vicino Io ho caccato uno sul tetto Uno sul tetto Uno sul tetto E qua da me è sceso No dov'è Eh sì C'è un bombardamento Un attimo Da me No Eh 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 C'è un altro ancora Mi chiama qualsiasi C'è una bengala Ragazzo Io ho bengala Eh Prima ce ne sono quattro Arrivano Torniamo lì Torniamo lì Prigio Mamma mia Oh ma che cazzo hanno le persone oggi 100 Eh non trovo le mie Eh sei scesa da quello praticamente Eh vabbè Dove è può pingarmelo? Eh non lo vedo Ma poi avete un bussato Pingameli Pingameli Porco Devo morire con due botte Non lo so raga io sono ancora qua Il mitico movimento mollusco Dove siete sotto? Sì Occhio raga Una terra Ti prego Eh raga Una terra È one e one e one È un Sesso Morti Morco due non sono stato in gara c'era un altro arriva ragapo branco sento sua ragapo branco sei tu sì bro dov'è dov'è non lo vedo più sparavote audio non ho piastre raga dove siete c'è un paio che non inseguero qua porco dio ragazzi o cane sono sotto di voi un metro sotto io stavo vedendo persone solo per capo siete voi sotto di voi per morire è fatta io stavo vedo io cane di quel ma poi guardi di bagu e prendo di nervoso quando muoio a due metri da voi grazie mi ha chiesto una mano tipo un'ora fa non avevo chiuso al momento anche perché devo prendermi il lotto sono loro quelli che hanno scritto sulla capo brano mi vedono prendere il cazzo di continuo sono morto ora ci andiamo invece di tre potere ah sei morto uor ballo a terra si è buttato si è buttato mi hanno tirato un bombi non posso ma siamo set oh uno qua uno qua raga uno è qua eh io ho attivato la mina a lui sono due eh sale da sotto uno mi sa vai qua crackato uno crackato raga se uscite aspetta pingate 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 cazzo potete togliere il ping dell'arma per foro non vedo niente eh arrivano cittadini attenzione in alto ritorno non disponibile con la paola spacca no vogliamo oh dio mio cattolo dolce è safe per quello che avete visto eh vado a riuscire a vedere se sono sopra di me alla torre no no in alto in alto no no non possono stare più in alto dove si è possibile non è tanto safe ma ce la fai a fare il resto è stata ah non sei no no non ho un po' davanti minchia minchia mi ha aspettato proprio che mi buttavo aspetta che ti rassocchi bro ah sta risando te si 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 ok un po di amaro non ho sei riuscito a prenderlo aspetta e provo a sparare questo bastardo è di sparare vai facciamo così e tu mi fai i gattini per un'ora io salirei dal suo lato no scusi che cazzo è sta roba? io ho attivato io sta roba ma cosa fai? tezzo giuntalino è in teoria ti potente due una terra dai ma non usci ma io sto laggando anch'io per quello non mi ha perso il paracadute no sono io bro ma ti aveva seguito uno non lo vedo prima di risalire sta? no non ce la facciamo ma io non l'ho fatto sono morto scusa sotto bravo ce l'ha ancora? no no questa è la team ma nient'altro vuoi stare attenti al petto io non ci sono eh ragazzi 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 io restarei qui o no traccato c'è l'altro un altro hai maschera molesto no ho un bengala però hai scoperto che mi sta venendo il tetto cerchiamo di restare sotto di loro riesco a pingarlo cazzo ce l'ho fatta sparando a me raga sta sparando devono affacciarsi ok sto sparando a me ce n'è uno qua da me a terra siamo 4 di 1 corazzi ne abbiamo per me a grazia per forza sopra deve essere e io sono sopra lui no no io a me mi ha sparato qualcuno qui d'acqua però è occhi prima che qua non è sopra raga eccolo qua grandi staglio bastardi due win raga gg molesto che mi ha arrestato dopo due ore quando aveva il bengala però va bene molesto che mi ha arrestato dopo due ore quando aveva il bengala mentre sparava il muretto sembra che si sente troppo bene quello che senti tu aspetta fammi vedere alzoparlanti pc vedi si sento bene perchè hai delle cuffie però in teoria tu non dovresti sentire quello che sento io perchè vorrei sentire dalle cuffie no? no no lui sente un titolo ah lo sente come ce l'ho io con il settaggio delle cuffie quindi esatto se tu nel suo bs l'hai impostato si assist warning allora si no grazie all'oggete che ho aumentato tipo il maio è forse la gaming mod assassino molesto game mod è una roba del genere io ho fatto un botto di assist sicuro raga 100% perchè ho un bordello di danni ma 0 kg 14 punti cioè ho un bordello di danni ma 0 kg ma io mi devo togliere la kimbo raga cioè proprio fa cagare la kimbo ma infatti come vedi si sentono da dio i passi a me mi piace ma va 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 puoi startare però tanto c'ho le classi già fatte beh però che deve avere una mossa finale eh hai ragione minchia quel ghost lì ragazzi ci voleva veramente la mossa finale che due coglioni oh per un attimo mi ero preso di nervoso ti giuro perchè una volta che ci andavo prendevo il cazzo ed eravate a due metri noi stavamo faitando io non me ne sono accorto che tu hai detto scendete giù sono sceso giù quando sono morto che ho preso il cazzo c'era uno del loro team perchè ero lo stesso team comunque eh io provo a scendere uno del loro team ero proprio sì ma è colpa di Sly che vuole fare tutto da solo poi quando muore dà la colpa a noi è normale dai non commenta ah ok ha detto ok sì stasì sono come meta la renetti secondo me è imbattibile a sto giro però sai qual è la cosa che non mi piace della renetti ragazzi minchia carica carica lento zio molesto saluta Lionel minchia Lionel però veramente rompere un po' il cazzo basta bro ormai sei qui noi ti conosciamo basta ma chi è Lionel? ma chi è Lionel? ma chi è Lionel? ok ti prego non lo dire che puoi dire vedi Warling non mi conosce fammi salutare da Warling esatto ormai che ci sei salutalo un fk un fk un fk un fk un fk ah ciao Lionel ah ciao Lionel no e perché non gli ha fatto la nostra finale madonna che mira di merda c'ha un time to kill esagerato st'arma comunque pazzesco mattia grazie ancora raga con sto cecchino non mi ci sono abituato bene eh quindi tirerò un sacco di smirate però ogni tanto ma devi tarnello premuto no non uso quella cam sai che quello che ho trovato prima di un nemico era preciso? quello ancora devo provarlo nel palo no no ma pure il mio l'unica cosa è l'anticipo non ho capito bene l'anticipo raga onestamente non so non so non so se darne tanto ne do troppo dipende da come corre l'avversario se vedi che va piano vai liscio ritorno e che vivi i tuoi compagni possono rientrare e una ha scritto io allora vai signore questa è vinta ma li do io torre arrivo ad ottergio dopo vent'anni pesante vent'anni che tira un più il culo tutto a loro brutto allora abbiamo giante questo raga controllo c'è il panico si lo so eh piastre mi servono ancora a me un'arma pompa c'è il panico veramente raga no il pompa non me la prendi dai provo provo l'azione della vita raga vado a combi io tiro un bombi e vengo ma non ho armi io l'ho ucciso uno così a caso terra uno sono morto sono morto pure io fatemi prendere almeno delle armi raga c'è il panico qua sotto dai da dove ho letto vale no no ti stavo per restare no dietro raga sopra e sotto bravo ovunque raga mi devo piastrare grande mi quanto la trova della sicurezza ho visto che ha sceso una lobby intera e sta continuando a scendere questo è divertente il problema è che è sempre più difficile trovare un'arma io uccidendo personale vado provando dai chiace one io questo qui che mi segue ma questo è già il suolo da out me lo stavo pure facendo raga guarda grazie di scatto che ho fatto che ho fatto che mi botta ci costo che ho fatto uno scatto allora sopra sopra c'è il panico raga sento un botto di passo anche giù eh eh mamma mia no no cazzo lo va a venire sta resiste che io probabilmente ci muoio eh eh comunque trovare un'arma mincia lo sapevo guarda 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 amore sono morto lo portiamo? cia puttana voi i destarmi di merda che esistono non faccio manco che esistono vabbè quanti quanti due coglioni eh uno a terra se non altro non ci credo mi sono suicidato come un minchione mi lascio andare io non ho la possibilità di trovare armi in questo gioco e una sopravvivenza continua io non so perché scendo da te e muori vero? magari ne aterro uno e mi squaglia sono morto provo a scendere la testa c'è un'arma c'è un team eh vabbè ormai sono sceso ma porca a terra a terra da fuori molesto andate da molesto arrestarlo che uno a terra no c'è un altro penso che sono sul tetto io eh io sono rimasto che mi sono dotto sotto la riscaldina c'è un milk lover no ma che cazzo spero te l'ho confermato molesto che sta webcam cammina orca puttana o sto smirando malissimo raga io per una spano provello da auto no c'è c'è da l'auto auto raga che ne ho almeno due eh scappa da lì perché scendiamo e moriamo ma non riesco a prendere un'arma è un continuo guarda che qua l'ho preso qualcosa c'è un po' di gente eh c'è due piani molesto davanti a te chiara casa io questi qui me li sto giocando due ore che li faccio che non riesco a farti mai nientato perché non c'è un nuovo Volevole e sto facendo tutti ce l'hai qua ce l'hai qua tutto occhio arrivo proprio solo stiamo prendendo il cazzo malissimo audio ma nientato faccio no 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 sto f***o di p***a come cazzo fai due volte audio merda uno ho fatto con un mincola e mo l'ora essa sopra prigione abbiamo un team questo si butta arriva arriva c'è un altro non ci credo stacca simitraietta sono qua a fai dare con warning non eri con warning visto che ci ha inculato e no ha fatto quello che era uscito fuori è che gli sto facendo mille giri ma li sto trovando tutti piano piano no da poco disco niente le armi non si possono riprendere niente raga io salgo da quest'altro lato vi faccio i ragazzi forse c'è sì sopra prigione in team e questo c'è che non riesco più usato è impossibile che mi abbia la serata così da questa distanza in ente scendi 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 bro questi vanno presi da vicino non ci credono oddio mio si non l'ho aperto è ancora caduta bro dobbiamo dobbiamo andarci dall'altro lato ma io non lo so con quale criterio io lasero mi ha fatto da dietro il resto della squadra di pre fire saltiamo al look a gom se ragazzi ragazzi io riproverlo d'alto almeno provo a riprendermi l'armi e provo a riportire possiamo sciogliere malissime che dobbiamo pusharli in culo adesso ho preso 8 di questa roba e il londi dov'è quindi e c'è gente non è vero già mi sparano da dove da dove mi sta inseguendo hai rotto i coglioni team qua e forse uno di push a buio ci provo pure va ricarica veloce dov'è minchia e mi risparo ma io non lo so no ho raccati craccati craccati voglio dire 2 4 2 2 che si stanno che stanno no da sopra da sopra lì no dietro di tempo ma se passiamo dall'acqua bro come cazzo è possibile e manco torno mo io non mi per essere abbiamo se riusciamo siamo salvati a culo se avete sul tetto occhio eh mi mirano già mi stanno guardando ma perchè mu sale questa pistola se la renetti è una secondaria perchè non sale sta fune di merda che bro lì sono a nave mi mirano occhio dal tetto vedi che sono già lì come cazzo fanno da spararmi raggiungete la zona sicura c'è una piastra ma come cazzo fa bravo due a terra potete restare pure eh ce sono due a terra scendo direttamente a live no 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 c'è a sinistra c'è a sinistra slide slide sono morto però mi servono delle piastre urgenti dai shop di me eh che cazzo orto ma ci credo mi ha preso per me questa è un'altra slide massima allerta ultimamente ragazze figure ti spampi benvenuto ce la fate fare il resto al volo in carri sanoressato ragazzi vedo se questo è risolto però io sono morto se salgo sono morto sono morto ora è tutto nelle tue macchie conferma mi strazo sono morto che ti rimatte in dieci arriva da te warning me cazzo raga io sono chiuso no nemmeno boh poi skin base c'è due colpi morti cazzo c'è raga posso avere riflessi di non so chi però cioè lì non potevo fare un cazzo l'avete visto come sono morto eh sì ma io comunque raga mi riprendo lo stalker anche se due soddisfazioni me le ha però smiro no no mi devo allenare con questo smiro troppo questo cecchino raga eh ma anch'io slide però ti posso dire una cosa si riguarda bene la build perché anch'io smiro di brutto no no ma la build la build a me piace la build a me piace ok perché tutti lo usano con quella canna che carica il colpo no ok è la parte ma a me fa cagare sta cosa perché si ok che devi caricare il colpo però è vero anche che che perdi tempo invece sta roba ha il proiettile veloce sì quello sì però quella che ho trovato io prima per terra il cecchino così non lo so che cazzo di build era ma non miravo né niente forse sai quale invece il trucco il merino cosa è un coglione un coglione massimo cambio il mirino raga perché se smiro è una questione di mirino non è che si chiamava sottocanna verticale essenziale sottocanna mette il posagenere perché la devi posare essenziale sl bi bro essenziale sottopalla essenziale super large allora super large vediamo con un altro mirino ragazzi che cambia la situazione che cazzo è non è che brutto che sta venendo così sottocanna allora come cazzo si chiamava sl ma che cosa il sottocanna che dicevo prima essenziale sl minchia così difficile erano tutti così comunque già a livello che cazzo di movimento ho fatto a livello di mirino già mi piace comunque questo molto meglio il corio eagle quello che uso sempre è io sto laggando di brutto ma quanto ho di una penza 6.000 è 200 io non sto mai in arrivo no 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 raga non va bene non è che questi proiettili qui anti material riescono a fare il panico davide bentornato però comunque cali di fps pazzesco ragazzi un 100 rebber secondo me hanno ma hanno distrutto un gioco io da che faceva 180 fps sono passato a 111 eh io lì faccio giusto perché sono in live ne faccio 89 no io per la live 110 109 allora scusa a sto punto aaa ma vaffanculo ma raga non ne devi dare anticipo cioè a sto punto non ne dai proprio minimo lo dai ma proprio quasi impercettibile perché il colpo arriva quasi zero comunque vabbè la mappa è piccola devi considerare l'ho ucciso da dove ero io a torre erano 107 metri il colpo è arrivato quasi istantaneo e 107 metri già sono tanti che comunque sia raga di che cazzo che stiamo parlando veramente c'è armi che stanno così cacare non esistono c'è un cecchino arrivo vinga arrivo arrivo che poi bravo tecnicamente i 100 metri per un cecchino dovrebbero essere di buona vinghia raga andiamo invece alle case raga magari uno start più selvaggio stimolanti a me è possibile che non trovo un'arma ogni volta appena scendo primo start con due armi mio bombardamento alleato in arrivo bombardamento alleato in arrivo vabbè vabbè veniamo un po' ti do malattie sento tanto qua non c'è niente tenda traccato ma la storia uno davanti occhio no sono un'altra ultimamente è bugato però dell'acophast sinistra comunque sei da pc intanto devi cliccare più volte il nodo quando non ti collega il nodo che lo dà anche a me ultimamente sto problema e con l'ultimo aggiornamento avranno sminchiato qualcosa oh guarda quanti flyer raga dove voglio andare posso dire restare a fermi qui a controllo c'è gente e poi andiamo al contro ma che cazzo dice chino di merda è raga all'anno l'hanno l'hanno nerfato l'ho preso l'elicottero ma l'ho preso una terra grande molesto prenditi le mie armi molesto è uno dentro molesto è uno dentro un altro che sale dal muretto no è qua è qua è qua è qua è qua è qua oh minchia il bombardamento va stare tu ciascuna perca sei sceso perca sei sceso perca il palico arrivo no ce l'ho dietro mi sembra oh c'è no vabbè c'è un cecchino giu occhio provo a raggiungervi c'è chino qui al ping 4 dai la tua squadra ha raggiunto la zona sicura i rinforzi sono in arrivo crack si è buttato non l'ho dato fatto uno sbagliato peccato no vabbè era un karma senza no io l'ho giocato malissimo ragazzi con questa cassa di sigaretta ragazzi stavo giendo un pum non l'ho giocato non l'ho giocato tutta la lobby c'è qua ragazzi l'ho giocato l'ho giocato l'ho giocato ma non lo so non ho più colpi non lo so ci si sto provando non ho altre c'è uno che ci sta andando non mi ha aperto il paragrafo vabbè quanti siete porca il panico e le ho croccati tutti rai qua una testa spostati di nuovo contro c'è gente a controlla il suo panico a contro e vabbè un grande dai dai una terra arrivano da me arrivano da me i rinforzi sono in arrivo io l'ho fatto con la lobby sopra prigione non ho colpi ma stiamo scherzando è qua è qua mi sta confermando mi sta confermando mi dimentico raga che sta roba buonanotte summit per un mio grazie per essere passato mi dimentico che ho un colpo quando prendo il lobby mi dimentico che ho portato a casa mi dimentico che ho portato a casa c'era che c**o grazie arrivano arrivano sono morto uno craccato 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 7 8 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 12 audio ho fatto una strage raga che cazzo ho fatto cosa va a venire ve li sono trovati tutti piazzati ho fatto il panico mi sa che ne rimane uno eh occhio la finestra di ritorno sta per chiudersi cosa va a salire cosa vuoi se c'è uno non lo so lo pinga sotto qua sotto pinga so già dove o è qua o è non mi dire che che sopra ah no mica hai fatto bene eh eh stanno scendendo gli altri non riprenderci il tetto raga il petto il tetto il tetto tutti li ho uccisi ecco qua è porco dove era dove era piano intermedio raga sto rompendo il cazzo alla zona sicura confermato dove era comunque piano intermedio intermedio non sto ricercando non posso prendere loti lo possiamo comprare lasciate i soldi allo sciolto scrivani e dietro la scrivania sotto terra terra ma andiamo andiamo ragazzi siamo fuori 6 questi ragazzi tanto non penso abbia l'autoressa orca madonna bro cavalca dio di una pietra norsi da come è morto come qui e biscotto il rabbit si riscarica la maschera a vabbè subito tipo si riscarica salgo sopra prigione minchia sono volato c'è gente sopra verso la funeria ok non vado neanche verso la funeria caccato a terra 1 vai 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 bro minchia vai bro sto cazzo sono in tra qua e una terra ti odio stefano ma che cazzo ne sapevano ne ho terrato due ne avevo visto due un'era a terra perciò ho preso il tutto come se non ci fosse un domani ma guardate lato positivo ragazzi io posso restare cosa fa sta roba ma ti da una tessera e che cazzo faccio con la tessera un piccolo nel culo si vai nello shop e ti da qualcosa mi piace c'era tutti sopra di me se ti da una polia atomica come tessera ti da un'arma con 8 cose quindi questa qui è la prova di quello che mi succede se vado allo shop no tu ci vuoi andare allo shop bro vedi che hai due zanzaro sulla testa merda io andrei adesso allo shop eh vabbè questi ah minchia non hai neanche l'arma a sto punto resta mamma capito non restare più ti hanno messo le smoke come te lo trovi di fianco ma ho restato uno come cazzo è possibile allora io ho i soldi ragazzi vediamo dove si sposta la safe a sto punto posso restarne due vediamo dove si sposta la safe a meno che nel resto due mi sacrifico io che vado allo shop eh io ho altri due rest se mi resti vedi che ho ah ho uno ne ho dimollare bro ma secondo me ce la fai se hai la classe no non ce l'hai una secondo me ti salvi se va in sé quello devi fare ora su quello shop ah quello dice si è chiuso no è chiuso porco di disco non sai che forse non hai fatto una cattiva idea ma anche se no ma funzionava prima lo shop perché ora si chiude hanno cambiato un sacco di cose comunque da quando c'è ci sono rimasto di merda secondo me perché era troppo lontano dalla safe secondo me dovevi tentare quell'altro mi sono sentito ho pure aspettato un attimo no raga è stato triste è umiliante vabbè bro dai vedi e poi ti chiedi perché senza di te vinciamo no raga cioè vi volevo restare non so che ci hai provato però io non ci credo un pochino ma che cazzo cioè prima mi mandi al magello poi niente poi mi resti mi fai fare pure questa mala figura dopo che ho pisciato davanti a tutti i live basta metto king kong devi cambiare il titolo emilio ma la figura di warning sei un dragone eh raga sto facendo belle giocate cazzo però dai beh almeno oggi si può giocare dai è più giocabile cioè io minchia sto facendo delle robe adesso il team di prima raga me li sono fatti dieci volte e team ma nientato ho fatto con una cazzo di arma da terra avevo solo quella quindi ogni volta uccidevo uno ricaricavo sai perché me li facevo perché pushavano come noi a uno a uno ecco perché me li sono fatti si si con un massimo di tre perché tu resti al faro preparatemi ma se tu sei il primo che tu esce da solo non so però dai dai la maggior parte delle volte me li faccio come il tuo video almeno io me li faccio la maggior parte delle volte me li faccio sei un king kong dove c'è il porto proviamo i soldi facciamo il load out prima dei preparativi ora chi entra in azione che l'avevo preso ma ho mirato un po' più in alto invece non dovevo mirare un po' più in alto è troppo veloce il corpo di sto c'è qui saranno obiettivi run che per fine season raga quindi scendiamo in quel posto non faccio raro dov'è che avevi pingato? dove avevi pingato? stronghold stronghold almeno sembra però che bella rabbit raga è che è piccola ma vuoi scendere a stronzo a me dovrebbero aggiungere tipo più poste che ne so anche due tre navi in più giusto per fare più no tanto devono aggiungere un isoletta lì che cazzo ne so ah ti vuoi buttare lì a mare? no allora lì a mare ok che una volta pingavo sempre il mare raga non si poteva fare ora posso no sbagliato che gente ha sottato io sono sotto uno giù ti vedo molto unicito quello giù è morto no dai raga raga chi era col tetto con me no io mi son buttata e lo spesso non sono quell'altro sul tetto ce n'è uno? aspetta aspetta guarda come si fa con bombardamento ma che cazzo si suona ho sentito? non chiederti karma c'è un radar portatile oh sono lì oh dio se smira a terra ah 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 pollo che voleva prendere l'elicottero l'altro più avanti e vabbè la traccata della vita mi era riuscita hai visto un player volare? fine della sorveglianza nemica non possono più vedervi avete visto un player volare colpa mide ma veramente sono brottato ma abbiamo gente lì sulle case raga ma all'ario stupor l'avete preso possiamo fare il lobby raga è una botta e poi fune saldi qua è stato pure una cassa di buono però l'ario sto con la presa la sto cazzo che ne ho perduto ma anche i soldi la tessera si deve sulloccare in fronte una terra e dove si porta poi questa tessera raga i soldi e sto arrivando ok scusa ma quanti cazzo di contatti di altri 4 munizioni per favore vai signori fune busciamo casa grande verde se decide di prendermi la fune tra l'altro stanno fightando sul tetto lì 100 direttamente dalla finestra spacco il culo terra 1 c'è l'ultimo dai a me mi devono cagare il cazzo perfetto arrivano eh sto dentro di fronte qui cazzo giallo ma chi è che mi spara sto coglione non l'ho fatto l'ho fatto occhio vai 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 con warning con warning occhio ne scendono pure uno è dietro il muro lo inseguo micchia una terra qui dentro l'altra nell'angolo l'ho pingati entrambi la terra lo bro ci sono ma ma hai visto davanti molesto ma perché siete stasciati in sotto è stato un errore quando lì non mi riprendo le armi dai raga ma dove siete ma dove cazzo hanno tirato il diritto no è detto dietro vuole lato però dentro audio anni arrivano io dovrei andare allo primo da nave non avete fatto morire se non rientriamo in casa rientra rientro 8 1 sulla nave nel giungo questa zona cazzo mi ha preso attraverso gli scatoloni e va bene come cazzo fa sapere di me pure non so che va a pandora che risalgo verso le case il problema che c'è stato tipo un nemico dopo l'altro sempre più avanti no è detto seguiamo warning è stato all'altro lato pensavo che erano aspetta fanno sempre dalle case non ti permettere più il resto c'era uno dietro la porta è arrivato l'altro io ho sbagliato perché che è convinto di averlo ucciso invece è rimasto one provo in lodi e vengo lì ancora lì raga io sono sento una cazzo traccato traccato un avvicinamento one siamo circondati no 2 fatte inseguire fatte inseguire no pure all'altro lato sono morto io resto ma una cosa non c'è la data ma io no ora sta più strappo dai qua quanti cazzo sono ragazzi l'attacco l'attacco con dati c c laissimi le occhie c c c c c c c c c Il Nato E' fuori Warning da terra Ok Sento Arrivano Ragazzi c'è un bordello Sì sì qua c'è il panico più totale Guarda che casino c'è qua sotto Dai Dove cazzo è dove tu è In casa lì Mi raccomando Dai sono da lui Scendo Provare che non riesco a scendere da voi Scendi qui scendi qui Uno sale dalla scala Io sto Scendi qui scendi qui Ne avete fuori dalla porta In casa in casa Ho capito Stavo entrando Dai uno sul tetto Stavo Da me è da merdi Un bordello raga Ragazzi sto camperando ve lo dico Tu spiegami come mi hanno fatto adesso E non rientro neanche No aspetta No sono due sono due No 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 dai ma perché non va il bengale raga Ma che cazzo Stavo lanciando il bengale non va Ma che cazzo di arma ha questo Ce n'hai uno sul tetto a fianco Allora ho tutti i resti e c'ho un cecchino che mi mira da lei No affanco Provo a restarvi qui Se scendi da me possiamo fare un altro lodi La tua squadra è nella zona sicura Lascio i soldi qui Raggiungo sul tetto No Era un cazzo di gabbiano del cazzo Terra 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 quello che ti sperava Eppure confermato Gordo uno in meno Verona del cazzo Oh dietro di me Dietro di me Aspetta lo vedo Minchia Non ho lasciati i soldi eh Che vi hai lasciati a noi Non vi vedo Senza piastra C'è gente sopra Fate il lodi Mi sparano da ovunque Merda da dove Sopra Sto facendo risolviamo No raga non lo possiamo fare il lot Ma ne scende un altro E non ho neanche corazzi Sempre sul tetto Uno è qua Ovviamente mi fanno in volo Caccato No No Poi ti passo l'ostro Non ce la faccio più Io sono morto Aspetta Ma dai raga mi scassa del cazzo da casa verde Qualcuno ce la fa salire qui che in teoria sono Ti posso restare Mi confermo Mi confermo Vai vai C'è quelli da casa verde No Ma dai Ma come cazzo mi ha fatto questo Ma c'è ancora quello di lì Si C'è già un sacchino che ti mira Eh veramente C'è un pazzesco Eh c'è un altro Sono senza piastre Non mi apre il paracadute Con il doppio rass La corazzi è normale C'è un passo di lobby Cioè che partita strana ragazzi Ho fatto una partita in una casa E continuano ad arrivare persone a ruota continua Cioè No sense Vai raga facciamo l'ultima Vai vai Starto tu Ma non penso cambi molto Ma da quando c'è Rebirth raga Che le lobby sono sudate Perché sicuramente Giustamente con la cosa di Rebirth Aumentano i giocatori Ma sono tornati un bordello sicuro Magari tanti ex sudati raga Vabbè Ah grazie Stefano No no ma in chat In chat qui non lo puoi mandare In caso mi puoi mandare il link su Instagram Mi mandi un messaggio su Instagram Siamo morti un bordello di volte Un botto di rischiamenti abbiamo fatto raga Un botto Proprio era un muore e ritorno Muore e ritorno E' un'altra cosa che bella Questa non è male Questa non è male Comunque la mossa finale di King Kong Raga è tanta roba Sia la più bella mai fatta Raga guarda che No Ah me l'hanno sbaggata Anzi Che cosa? C'avevo sai la skin quella lì Del black cell Cioè nonostante io ho il black cell Ce l'avevo bloccata Cioè mi dà l'operatore bloccato Però appena lo selezioni Te l'avevo bloccato E non potevo usarlo Se ti rendi conto truffa Tipo 30 euro Pazzesco Grande Valerio Non l'ho mai provato Il black cell non l'ho mai preso nulla Colui che prende solo le skin a sgrocco Ma io l'ho fatto perché Tanto dovevo comprarmi King Kong Non poi per la mossa finale Cioè per me quella mossa finale vale tutto Cioè Non mi stancherò mai di far volare in imaginario Poi se incontri la logica Ragazzi le ranetti sono Sono rotte le ranetti raga Non è bello giocare con questo Buonanotte Enrico La fight è passima che li vince Comunque se ci fate caso ragazzi Sto il gioco non sa Non sa equilibrare pompa e pistole Fateci caso le armi meta Quella che rompono i coglioni Sono sempre stati pompa e le pistole E anzi che non hanno fatto una build meta a Kimbo Perché se no Staccato per il secondo posto Mamma mia Salvatore segreto Cos'è da Kimbo Adesso pingo io qua Vai 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 Già non ci sono armi tipo in tutta prigione Pensa in una cassetta di un metro quadrato Però dai guardiamo il lato positivo Vabbè di che c'è il tunnel qui sotto Pura Arrivano Che non bisogna mai entrare Ma allora sei stronza Inchia raga è invece molesto Guarda qui Già penso lo sapevo Aveva già previsto Ho un cecchino di merda Ho preso C'è un'arma sopra Tutto hai preso Eh vabbè un cecchino Una piastra Un bengala Sì via Eh certo io non ho preso niente Guardalo lì Guardalo là Tra l'allero là Tu siamo contro C'è gente c'è gente c'è gente C'è gente qua Io un cecchino Arrivo Credo Ho forse di tu No scherzavo Io sono sott'acqua qua C'è gente o no? Era molesto Era molesto Eh dopo lo guardo a vita Guardalo lì Guardalo là XM13 Guardalo qui Mi sto ricordando questa C'è gente qua raga Se vogliamo Ma io vedo le casse Attraverso i muri Sì Vedi quella leggendaria Eh simpaticissima Oddio ma c'è uno No No Sei scarsissimo raga Guardalo qui Guardalo là Sì davanti a me No è sopra però no mi confermi la grado il resto c'è il ping di un'arma guardalo lì guardalo là guardalo lì guardalo là occhio a destra ma l'avevo pingato qui questa lobby è molto più semplice per come abbiamo 26k raga con ce lo shop non riesco a lasciare i soldi ho ritrovato il vero da un'operazione di portano fianco si è venuto a dire non pensavo di avere il cecchino la pasta ma è lo di lo di lo di lo di lo di lo di dove sta tornando che ci servono soldi arrivo io non ho fatto se ce la fai prendi una vieto invece che ci sono 400 ping diciamo che mi chiamiamo che mi chiamiamo male quelle di teoria di sotto con la chimica ce n'è uno è qua da me così andolo c'è andolora c'hai una mossa finale di merda ma vuoi far capire che è bello e quindi dai una spiegazione a tutto tu sei che mi capisci su prigione c'è gente sul tetto e andiamo a prison prigione guardalo lì guardalo là ma io arrivo due davanti a noi almeno una terra morto una terra due a terra ragazzo che stai vedendo davanti davanti ci vedo la mina ne abbiamo un altro davanti guarda sì ora c'è ricordato si è buttato c'è un'altra c'è anche qua sotto raga c'è casa verde però tifo c'è la spalla la spalla 2 sbagliate metto subito inviato devo ricaricare no ma c'è uno qui corca puttani mi sono camperato qua e ce l'avevo davanti guardi questa casa di mani a favore che ho due bengala io non la posso prendere anzi raga uno che si prende un bengala visto che non ha due io già ne ho uno eh cazzo lo riprendo non è perché se c'è tornare indieta abbiamo gente lì alle casette terra casetta si crozzano uno ha crossato eh sta fai tanto c'è uno ci ha prigione raga diventa sotto di mano? ah no è molesto lì è si traccato nooo ma che cazzo sono due ci hanno inculato male ah vaffanculo e noi avevamo il bengala non fa scherzi non ti preoccupare buonanotte valer tu potevi dire un un dalla finestra ma questa riga sopra il bacione è tutto apposto eh no vi ho appena restato eh c'è uno che mi rompe il calcio c'è tipo come trovare molesto il random sai quello che ti fa restare ti fa spawnare sempre un gioco di squadre un po' di squadre un po' di squadre un po' di squadre dove? ragazzo vengo 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 30 metri stavano mirando uno crackato bravissima bravissima scappo mi piacciono il bus mi piacciono il bus fatti tutti e due del terzo due sopra di noi due sopra di noi no armi non c'è no devo ricaricare via alla porta andiamoli dove cazzo è? non lo vado oh è qua ah ok la rifà che cazzo mi spari? eh non sto solito dai da dove? era qua da dove? eh bro non l'ho visto più sono salito aspetta che riscendo a sto punto non è male ah ma proprio tu sei andato in culo a sta turno sotto sono sono due sono due sotto no 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 raga facciamo di storia qua sotto dove? sotto sono cosa trombali uno ci scende dalla per nascendo io prendo i lotti e mi butto sulla scala dietro esatto eh perché sei da solo io sono in treno eh ragazzi minchia la termite mi ha appiccicato sono sotto raga sotto dove c'è la cazzo di cosa sono in tre cessi in tre cessi sono raga oh una terra uno ah l'altro la terra è uno caccazzo dai 3 sti sei da solo 6 secondi no l'ho atterrato però ok guardi che ci sono tutti qua eh uno si è ucciso a terra vediamo a me no vabbè warning tranquillo compagno è tornato in squadra bene gatti in movimento mamma mia ah molesta di attività terra terra che ha proprio strafattuto eh oh no sbagliato c'è uno di loro che altri due sopra altri due sopra di mano non ho piastro eh ci sto salendo io ce l'ho io tieni tieni alinei cessi in teoria è ora che è libero dovrebbero esserci saldi conclusi presti in aggiornamento finchia una me ne hai data oh bidocchia una? dai dai proprio di nome c'era dai sono sul tetto raga sto salendo il tetto di quanto l'ho smirato fatto l'altro? uno sotto di noi ma l'ha pingato e l'altro è flyer saranno scesi qui ai cessi flyer lo senti? caccato? è entrato da dove? eh nella finestrina al primo piano uno mi sa che è qui da me ha preso una clamor in culo fatto ritorno disattivato adesso non si scherza più ah ci teniamo il tetto nooo raga sono morto sono morto nooo ci sono rimasto due ore come un po' dio fermo vai te guardo io cioè raga l'avete visto mi è esplosso un'esplosione non mi muovevo più guarda 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 oddio arriva gente caccato quello pingato no raga vi giuro gli vado a colpi di minchia stavolta raga pusso di minchia stavolta come arma da mischia caputano il vento sotto di me attenzione in alto ho arrivato a teslai sotto ma ping rosa c'è qualcuno o un ping a campo cos'è che mi ha scritto la serato no c'è è salito qualcuno aspettate audio ragazzo un bordone di basso sono tutti qui raga sulla cucina ricordate le cucine mi chiedevano a prendere il cazzo malissimo questi ragazzi mi chiamo a tutti quelli non c'è anche al buon atti bussini loro carriera faccio tra il sogno le mini a grattolo guarda 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 ma come ha fatto non ci credo e dobbiamo riprendere il tetto raga sono sul tetto sono sul tetto raga mi troviamo male adesso ma sì comunque sono strati questi occhio sariamo di 4 ma tu sali diretti una persona fu sul tetto non lì sopra merda arriviamo adesso tutta la smoke no vado a restare i tuoi cazzo questo è illegale vedi eh non si può fare una cosa così vogliono dai ma sì ragazzi 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 te lo ho detto anch'io dai dai quello che ho visto un team intero c'è un team intero lì cioè dai io vado per scappare da un team finché lo cazzo è sì sembra che stai facendo una festa da quattro tentiva ma lei se l'avete sentito in parte l'audio dai ragazzi per oggi abbiamo dato dai due quindi l'abbiamo fatta un ragazzone io vi saluto vi adoro ci perché domani sempre alle verdure e trete signori vi voglio bene un bacione ciao chat grazie per la compagnia buonanotte a tutti vi amo e niente a domani ragazzoli buonanotte